Enrico, secondo me con le due corde, una volta che era lì, la giostavi così. Aspetta che ci ha appoggiato. Aspetta, 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 è attaccata l'antena di sotto, non riesce a togirci quel cazzo di radiano, seghetto. Stai documentando? Sto filmando. Attacchiamo anche dal di sotto. Quale? Quella? Quanto costa l'alluminio al chilo? Sto venuto a rotare. Bisogna salire solo scelte? Aspetta, facciamola scendere fino a lì. Aspetta, aspetta. Aspetta finchè non è lì, non so se ci fai niente. Ok, vai adesso. Vai, vai. Falla da andovare un po' verso di te. Giù, giù, giù. Giù, giù. Allè prendetela, va. Aspetta. Devi salire su? Aspetta. Poi la passi di qua. Aspetta. Vada a scendere. Vai giù. Ci abbiamo. Devi salire sullo scendere. Sto cercando di fare il scappolano. Ok, adesso è appoggiato. Passa di qua, vieni Andre. Dove vai Andre? Sì. Ok. Vada a scendere. Dove lo smontarla qua. Perché smontarla? Vada a scendere. Non mi regge. No, non mi regge. Vada a scendere. Vada a scendere. Vada a scendere. Andreino, vada a scendere. Vada a scendere. Vada a scendere che stava spagno. Tieni, dai. Sì, sì, ce l'ho io. Dai, mola piano. Vai tranquillo. Andreino. Oh! Vada a scendere che non scivoli, io te la tengo dalla corda. Tranquillo. Ok. Mola dalla... Tranquillo. Mola. Ok. Mola ancora. Ok. Sarai ancora a corda? Basta! Va che viene. Non ce n'ho più corda. Non ce n'hai più? Aspetta che la recupero. Un attimo solo. Attaccaci l'altra. Aspetta un attimo. Togliamo qui. Anche l'altra. Un'altra corda da dietro. Tu fai i nodi marinari? Bisogna tagliare la canaletta. C'è la tua assicurata? Ovvero, non ci siamo. No, dammelo alla corda. Eh? Mando giù l'altro elemento, ragazzi. Ah, ok. C'è la corda. Buon, buon, buon. Ok, buon. Buon. Grazie, ragazzi. Attenzione, 11 meno 10. 11 meno 10? Sì. A posto. Guarda che arriva l'altro pezzo. Dai Gianna legata quella lì. Eccolo! Tanto bisogna tagliare la canaletta e montarcela. Sì, è vero, bisogna montare la canaletta ancora con il balun. Ah, sì, esatto. Tieni la corda. La canaletta! Fermi, fermi, fermi! Fermi! Eh, non tiro, non tiro! Ora! Minuto in dito, la posiamo un attimo qua. Abbassa! Ok. Vuoi che salga anch'io Andre? No, no, no. Ok. Adesso ce la portiamo in là. La tengo io. Per l'altro aliccio. Vai tranquillo. Ok. Ok. Adesso non riusciamo più. No, aspetta. Sali sullo scalino. La faccio girare dal basso. Ho mano che sale. Ok. Piano, 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 piano. Fermi! Sali! Vai! Attenzione che è rimasta impigliata. Guarda che poi mola di colpo. Andrino! Guarda che la cina... Ecco! Con mola di colpo! Attenzione! Vediamo! Vediamo! Ce l'ho io, ce l'ho io! Vai! Tira! Eh no, perché è incasinata lì dentro. Vai! Tira! Devi girarla! Andreino! 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 Dimmi! Devi guardare in alto. Guarda su! Ok! Aspetta! Ecco! Adesso ci sei! Aspetta di là! Attenzione di là! Ok! No! Andrino! Calma ragazzi! Calma! 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 Con calma! Ok! Adesso va! State piano! Sì sì sì! Occhio! Occhio! Ok! Lascia che la tengono loro! Siete da soli qua! Sì sì! Te la fate eh! Sì! Vai! Ma la staccata a queste! Ma la staccata a questa! 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 Ma ne se ci si gira! Va bene! Te la so! Te la so! Non è voluto perché come si fa! Non è voluto! Mi hai fermato giù! Andrino! A meno che tu non riesca a salire un po' Io sa! Il radiale di questo cavolo si fa! Va girata! Lo posso! Dico! Va bene! Va bene! Salgo! Eh! Se ce la fai! se scende ancora un po' non va bene giuseppe è infestrata sopra non riusciamo a fare la gira fermati fermati bisogna fare la scena per forza si deve scendere di un bel po' guarda che la stroci guardate qua la scapolata dopo la corsa ancora 50 cm vai vai matti ritorna dentro che è meglio ma ancora un pelo chiamami comunque ancora un pelo ancora? eh sì sì 30 citi buoni vai vai giù dai 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 vieni tutto il cuore vai giù te lo tengo io te lo tengo io te lo tengo io dai che è passato dai che è passato fai girare Massi occhio che gira ancora dai gira non si piega ecco lì gira gira e allora fallo girare dall'altra parte Massi così dovresti passarci eh spiega quale radiale è lì eh così dovresti passarci dovrebbe passare così eh questo dovresti fargli evitare non passa no adesso no non può passare prima si adesso no adesso non passa niente passa? no non può passare è sbagliato girala non può passare ragazzi come fa a passare? girala 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 mettele in orizzontale e non ce la faccio come ve la prendo? dal masto e non ce la faccio è per quello che quell'antenna lì scusate andava assicurata con una cima di qua e una cima di là voi tiravate e scendeva da su questo che dicevo io riusciamo a mettere queste belle antene puntate senza ho o mi mi nessun pixel si bianco il si questo un è qu 2000 è questa è questa città ... ... ... ... ... ... Enrico sfilati verso di là, ok è fuori, è fuori, vai, allora adesso bisogna fare la pancia, se la molla cosa succede? Vai, vai che fiata, vai! Ho il cambio dietro. Non so, lo dico! Ora, se le Fauine sono in sotto le teammates sono anche come nel pubblico. Ma c'è un'altra dell'altra è l'altra? È al contrario! Il baluma è di là, eh! Sì appunto, è al contrario! E' al contrario, ma tu guarda anche l'antenna dei 6 metri, come è puntata. Ho capito, ma scusate, il direttore dell'antenna dei 6 metri, l'elemento radiante, è a morde. Il riflettore è di là, gira, gira. Ragazzi, come cazzo la volete mettere sta antenna? Ma vedi che l'antenna dei 6 metri c'è un riflettore dietro? Il PL dell'antenna deve andare verso il must. Ho capito, ma guarda che è l'antenna dei 6 metri, poi c'è un riflettore dietro. Ma il PL rimane di qua. Mentre noi c'è l'antenna dei 6 metri, il PL ce l'ha di là. Non mi faccio me ne frega l'antenna dei 6 metri. Non so che tu ragioni da statale, però... Come me è al contrario l'antenna dei 6 metri. L'antenna dei 6 metri e dei 2 metri puntano di là. Come era messa prima, l'OPTB puntava di là. Dobbiamo andare verso il riflettore. Dobbiamo andare verso il riflettore. E dammi la chiave. Adesso è a posto. L'OPTB è puntata da su da adesso. Anche lei come le altre. Sono tutte puntate là, senza inizio. Pensavo che aveva capito, che aveva invertito. Aaaaahhhh. Ahah. 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 Un'altra cosa. Youtube, eh. Ahah. Ahah. Andrino. Eh. Ma tutti i bisogni di là, sono due radiatori. Sono tutti direttivi. Quello lì è riflettore. Grazie.